C'è giocato anche tante volte con la Fiorentina e non abbiamo mai vinto contro il Genoa quindi questo è un motivo in più per caricarci e dare il massimo anche oggi. E lo spirito del gruppo con cui si arriva a questa sfida qual è? Tranquillità, comunque serenità? Sì assolutamente, tranquillità e serenità si deve essere di fondo perché sennò poi perdiamo anche tutte le nostre qualità però è arrivato un po' il momento anche di dimostrarle, di dimostrare quello che sappiamo fare perché siamo sicuri di saperlo fare quindi dobbiamo aggiungerci un po' di cattiveria, un po' di determinazione e con questa secondo me arriverà anche un po' di fortuna che comunque non abbiamo avuto.